mi presento sono ritratto di giovane donna la fanciulla ritratta era una giovane sposa di parma ma più di un secolo dopo mi chiamarono antea sono bella lo so sono ancora così ammirata che pagano per venirmi a vedere eppure ho rischiato di essere distrutta non soltanto io qui tutti tutti noi i nostri guai sono iniziati un giorno di giugno di quasi 80 anni fa da quel giorno l'italia è stata squassata dai bombardamenti i fratelli hanno ucciso i fratelli questa orrenda novella vi do disse alessandro manzoni di cui sono il ritratto il comandante delle forze alleate generale clark disse che fare la guerra in italia era come combattere in un maledetto museo nonostante tutto le opere d'arte di quel museo sono ancora in piedi noi ci siamo ancora quasi tutti questa è la storia di come ci siamo salvati